C'è poco da sfottere, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti, voi sfottevate questa storia del cinese, avete visto che lavoro abbiamo fatto? Veneto Pride, avete visto cosa significa avere un'Olimpiade? Scusate, benvenuti a Scoprire le bellezze italiane, ma voglio dirvi cosa, ieri voi avete visto, e saluto tutti i veneti e tutti i collegati, avete visto la serata di chiusura in Mondovisione, catapultatela a 2026, sarà l'Arena di Verona, lo dico, quegli sproveduti che pensavano che fosse una roba con i furgoni in moto per andare via, cioè la serata di chiusura è la serata nella quale si passa la bandiera alla location successiva, quindi il paese che ospiterà le Olimpiade, quindi una serata importantissima, ci sono i capi di Stato presenti, quindi Verona avrà la chiusura, cioè quello che avete visto ieri in Mondovisione ce l'avrà, e avrà l'apertura delle Paraolimpiadi, che a me non mi parlo proprio niente, quindi Verona è città olimpica, dall'altro immaginate solo a Cortina, nei nostri Dolomiti, cosa accadrà.